Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale dedicato ai guadagni online con e senza investimenti, Sunshine Money, canale che ho creato da poco appunto per gli appassionati dei guadagni online o per quanti di voi non ne conoscono le potenzialità e ne vogliono sapere di più, vogliono imparare qualcosa. Quindi io invito a iscrivervi, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che di volta in volta andrò ad aggiungere al canale. Apro sempre una piccola parentesi, ho anche un mio secondo canale dedicato alla produzione musicale, quindi per quanti amano la musica, sono curiosi, sono interessati alla produzione musicale, ho il mio secondo canale, Sunshine Records Home Recording, qui potete trovare un sacco di video, un sacco di tutorial riguardanti appunto questo campo. Per quanti di voi magari vogliono iniziare a muovere i primi passi o vogliono affinare le proprie tecniche, anche qua potete iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che di volta in volta andrò a caricare. Ma tornando a noi, di cosa voglio parlarvi oggi? Oggi praticamente per me è giorno di paga. Sì, perché io praticamente ogni fine settimana vado a riscuotere da queste tre app. Sono tre app appunto, quindi stiamo parlando di smartphone e nel mio caso di Android. Io ho detto più volte nei miei video che nel caso non abbiate una situazione Android o non vogliate installare alcuna app sul vostro smartphone, esistono in rete, in modo assolutamente gratuito, degli emulatori Android sia per PC Windows e sia per Mac, quindi per mondo Apple. Potete, se volete, scaricarle e installarle sul vostro PC o Mac così da avere le vostre applicazioni Android direttamente sul computer. Io faccio così anche per una questione di comodità. Quindi, sono tre applicazioni che già vi ho presentato in passato e le potete trovare nella mia playlist sotto la voce app e sto parlando di questo video. Quindi, tre applicazioni top, secondo me, perché le sto usando già da un bel po' di tempo, sono serie pagante all'istante, sono tre applicazioni che ci danno diritto a dei faucet di Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Io lo dico più volte, i faucet sono dei centesimi, degli spiccioli di criptovaluta e sicuramente non si diventa ricchi. Però, stiamo parlando di criptovaluta, quindi si spera che un giorno, come dire, aumentino di valore, generano un surplus e quindi, pian piano, andiamo a metterci su il nostro piccolo brusoletto, mattoncino su mattoncino. Ripeto, queste applicazioni le sto usando già da un bel po', ho fatto un sacco di prelievi, vi ho fatto anche vedere qua una prova di prelievo e quindi di pagamento, tre applicazioni assolutamente top per me, serie e pagante all'istante. Ve le faccio vedere anche oggi. Quindi, sto parlando di Free Litecoin Spinner, che ci darà dei faucet di Litecoin, Free Ethereum Spinner, che ci darà dei faucet di Ethereum, e Free Bitcoin Spinner, che ci darà dei faucet di Bitcoin, quindi dei Satoshi, che i faucet di Bitcoin si chiamano Satoshi. Quindi, ne vado a prendere una in esame, perché sono tutte e tre equivalenti, funzionano tutte allo stesso modo. Io prendo, in questo caso, in esame, l'Ethereum, quindi io vi lascerò sempre tutti i link in descrizione. Una volta installate, le aprirete, vi chiederà di iscrivervi con la vostra Gmail, mi raccomando, con la vostra Gmail, che sarà legata al vostro conto Coinbase. Adesso, ecco qui, vi faccio vedere, vi si pretenda così, io qui andrete a inserire la vostra Gmail, legata al conto Coinbase, fate su Procedi, e vi ritroverete nella vostra schermata, da cui sarà veramente, veramente facile guadagnare. Ripeto, per quanti sono interessati, posso fare riferimento a questo video, dove le ho presentate. Ma, ricapitolando, è molto facile da guadagnare su queste applicazioni. Praticamente, sono una sorta di ruota della fortuna. Qui, in alto, abbiamo dell'energia. Questa energia, man mano che andiamo a girare, man mano che andiamo a fare i nostri spin, diminuisce fino ad azzerarsi. Una volta azzerata, in automatico andrà a ricaricarsi dopo un totto di tempo, oppure, potremmo ricaricarla andando qui nel simbolino della spina, potremmo guardare dei video, oppure completare delle offerte. Qui, sul tasto Spin, si va a girare questa sorta di ruota. Ok. Come potete vedere, in questo caso, mi ha dato i miei 60 G-Way. I G-Way sono, praticamente, i Fawcett dell'Ethereum. Si vanno ad accumulare qui. Come potete vedere, qui c'è il balance. Qua potete decidere quanta, come dire, quanta energia impiegare in uno spin, se è 3.000 o 5.000, che andranno a scalarsi da qua, man mano. Molto, molto semplice. I nostri Fawcett andranno ad accumularsi qui. Parte sempre dalla pubblicità, perché queste applicazioni ci guadagnano con la pubblicità. come potete vedere, come potete vedere, i nostri Special andranno ad accumularsi qui. Quindi, io in questo momento, ho oltre 116.000 G-Way che andrò a ritirare in questo momento. Ne ho già ritirati, come potete vedere qua sotto, 2.900.000 e rotti. Andiamo qui nel menu a tendina. Claim. Praticamente, cosa succede? L'applicazione mi dice che è una sorta, come dire, di sicurezza. L'applicazione mi dice che si può prelevare ogni 3 giorni. Ok, io dico di sì. Veramente pochi attimi. E ho già, come dire, i miei spiccioli di Ethereum nel mio conto Coinbase. Mi dice che mi è stata mandata una mail. Vi conferma. Ok. Io sono già a posto. Tutto molto, molto semplice. Posso chiudere. Vado nella mia mail a controllare. Ecco qui. Ancora non mi arriva, ma ci metterà davvero pochissimo tempo, ve lo assicuro. Riproviamo. Ecco qui la mail. La mail mi dice che questo signore Oliver French mi ha inviato i miei fauciet di Ethereum. Ecco qui. Quindi, applicazioni, tutti e tre, perché sono equivalenti, Free Ethereum Spinner, Free Bitcoin Spinner e Free Litecoin Spinner, applicazioni assolutamente, assolutamente paganti e come avete visto, paganti all'istante. Vi avevo anche detto che per quanto riguarda Free Bitcoin Spinner è un attimino diversa dalle altre, perché è l'unica delle tre che praticamente dà la possibilità di prelevare solo per, come dire, locazioni, lo dice anche qua, che supporta solo, praticamente, utenti americani, degli USA. Nulla di, come dire, preoccupante, perché vi basterà uscire dall'applicazione, infatti, se io adesso provassi ad andare, come dire, a girare la ruota, mi dà questo errore perché mi dice che, appunto, non sono un utente americano, appunto, mi trovi in Italia, ma non è un problema, esistono, appunto, delle applicazioni, le cosiddette VPN, che fanno credere, come dire, al nostro sistema di essere in un'altra parte del mondo. In questo caso sto usando Turbo VPN, che è un'applicazione assolutamente gratuita, un VPN assolutamente gratuito, vi lascerò tutti i link in descrizione, passerà qua andare sul mondo, andare nell'arsione free, scegliere una delle locazioni che, appunto, mi interessa, abbiamo detto che dobbiamo scegliere una locazione negli Stati Uniti in America, quindi io ne ho due, una a San Francisco e l'altra a New York, è indifferente, ne scelgo una, ok, un attimo, ok, si connette, ecco qui, adesso siamo connessi, siamo in America, ok, quindi torniamo indietro, andiamo adesso nella nostra applicazione dei Bitcoin e vedrete che potrete tranquillamente usarla come se stessimo in America, molto semplice, eccola qui, un attimino che si carica, molto molto semplice, eccola qui, provo a farle girare così vi demonstra che funziona adesso, ok, mi ha dato tre Satoshi, solita pubblicità, si vanno ad accumulare qui nel mio balance, ok, anche qua, vado a ritirare, stessa storia, manua a tendina, claim, ok, solita storia dei tre giorni, e vi dico di sì, pochi attimi, e il gioco è fatto, anche qua, mi avverte della mail, ok, posso tranquillamente chiudere, andiamo a controllare nella mail, vado ad aggiornare, adesso ci metterà un attimino di più, ma arriva, un attimino di pazienza, arriva, proviamo, eccola qui, tutto in diretta, non sto tagliando assolutamente nulla, quindi, il solito Oliver French mi ha inviato 1018 Satoshi, di Bitcoin, su Coinbase, tutto assolutamente serio e pagante, quindi, ripeto, per gli amanti di criptovaluta, secondo me, queste sono tre applicazioni, molto molto semplici da avere, secondo me, sono delle top up, come avete visto, assolutamente serie e paganti, niente ragazzi, questo è quanto, io vi invito a iscrivervi sul canale, per rimanere sempre sempre aggiornati sui contenuti che io di volta in volta andrò a caricare, mi raccomando, attivate la campanellina, Sunshine Money e Sunshine Records Home Recording per quanto riguarda la produzione musicale, per gli amanti della musica, per quanti ne vogliono sapere di più, per quanti vogliono iniziare a muovere i primi passi sulla produzione musicale, ragazzi, io vi saluto, vi rimando al prossimo video, ciao e buoni guadagni a tutti